Luke 43 16 A tutti i messaggi che mi sono arrivati del tipo ragazzi non faccio nomi ve lo dico subito ma faccio un annuncio generale chi è interessato lo sa Allora mi sono arrivati molti messaggi molti da quando ho fatto quei video in cazzatura con scritto io per questo stesso motivo ho chiuso un canale piuttosto che io per l'insulto ho chiuso un canale io non ce l'ho fatta continuare ho dovuto chiudere il mio canale io mi sono arreso e tanti altri messaggi Complimenti tanti complimenti perché sono riuscito ad andare avanti e eccetera ragazzi allora grazie per i complimenti ma soprattutto io volevo ringraziare voi perché se io mi sono rialzato e ho continuato come sto facendo è anche grazie a voi Grazie ai vostri consigli grazie ai vostri suggerimenti grazie soprattutto a voi anche se devo ammettere che io vabbè ho un carattere forte non voglio vantarmi per cui non voglio critiche ho un carattere forte nel senso che se io decido di fare una cosa mi impegno a fare quella cosa e vado comunque avanti Se ora sono qui a fare questo video per darvi dei consigli ripeto oltre al mio carattere è anche grazie a voi per cui ragazzi i miei consigli sono avete aperto un canale avete fatto dei video i video possono essere apprezzati possono essere piaciuti non piaciuti non apprezzati possono essere criticati commentati nel bene o nel male ma anche io ragazzi come voi non accetto gli insulti perché? Perché allora se a me non piace un video o non piace qualcosa a parte che se a me non piace non lo guardo e non seguo neanche quella persona giusto no? Però se per puro caso mi capita di guardare quel video e non piacermi e mi va di scrivere qualcosa nei commenti posso scrivere che ne so non mi piace come hai fatto questo video secondo me potresti farlo in questo modo o non mi piace questo video punto Va bene è una critica ci sta è un commento negativo ma non mi permettere mai di scrivere come cazzo stai come ti permetti a fare questi video o chi ti ha dato l'idea di fare questi cazzo dice no perché quelle sono offese Perché ragazzi bisogna sapere per chi non fa video su youtube sono tanti e magari aprono dei canali appunto per commentare ed iscriversi ad altri canali però magari non caricano video Ragazzi caricare un video io parlo per me stesso sono tante ore di lavoro Lavoro non pagato preciso perché perché è un'ora due ore per caricarli su youtube un'ora due ore per renderizzare il video e mettiamoci anche tutto il tempo perso per creare quel video Per cui ragazzi anche un video venuto male è sempre un video impegnativo per cui bisogna apprezzare una persona ciò che fa non bisogna valutare solo il video in sé Ok ci può stare il video venuto male anche io ho tanti video ma e molti sono venuti male però ragazzi ci può stare no non c'è bisogno di insultare o di criticare quella persona per quel video Perché una persona secondo me dovrebbe criticare e non so che stavo dicendo mi sono impappinato Vabbè comunque spero abbiate capito il concetto che creare un video ragazzi non è per niente facile Anche un video semplicissimo comunque sia è tanto tempo per caricarlo su youtube per renderizzarlo eccetera Per cui mi riferisco alle persone che vogliono o hanno in mente di chiudere il canale o di arrendersi ragazzi non lo fate Un consiglio che posso darvi è continuate a caricare i vostri video che piacciono o no voi continuate ad andare avanti Lo so ragazzi mi sembra strano anche a me che io dopo poco tempo che sono su youtube sono qui a dare io consigli a voi che magari siete da molto più tempo O addirittura alcuni da anni Lo so ragazzi mi sento strano anche io a fare questo video lo ripeto Però quello che ripeto in quasi tutti i miei video è che io voglio insegnare a voi quello che insegnano a me Nel senso io è tre mesi che sono su youtube come molti di voi già saprando Ma in tre mesi ho imparato tante cose veramente tante tante e vorrei trasmetterle anche a voi che magari in tanti anni non siete riusciti a percepire Non voglio fare offese ragazzi però Voglio ripeto insegnare a voi quello che ho imparato io Per cui io continuo a imparare tutti i giorni Non dico di essere nato e imparato ragazzi perché è tre mesi che sono su youtube ed ho imparato tante cose e tantissime altre dovrò ancora impararle Già lo so È dura È dura stare su youtube È dura accettare gli insulti è dura accettare le critiche però ragazzi bisogna guardare noi stessi Perché su youtube sì siamo ricambiati con apprezzamenti con Siamo ricambiati con come si dice Con gente che magari ci vuole bene con gente che ci stima con gente che ci fa tanti complimenti Però ragazzi solo in quello siamo ricambiati non è che ci pagano per poter fare un video A meno che uno non abbia la partnership o altre cose simili Per cui ragazzi Bisogna guardare anche un po' noi stessi non guardare solo gli altri Al contrario di me perché io guardo solo voi A me non interessa Di me in questo caso Io guardo solo voi cerco di farvi divertire cerco di insegnarvi cose serie Con questi video e non voglio dare lezioni di vita ragazzi perché sì ho 28 anni ma non voglio fare il paparino di nessuno Posso solamente darvi consigli che poi voi li accettiate o no Sono problemi vostri ma mi farebbe piacere insegnare qualcosa di serio e veramente consistente a qualcuno Perché con tanti video incazzatura che ho fatto ragazzi Sì magari erano video dove ero incazzato dove ero nervoso dove dicevo anche tante parolacce Ma se guardate bene ragazzi in quei video Mi hanno fatto notare che ho insegnato molte cose C'è gente che mi scrive messaggi grazie al tuo video ho fatto questo grazie al tuo video ho capito queste cose Per cui ragazzi Ringrazio anche io voi veramente Non dovete solo ringraziare me Spero che questo video lo apprezziate spero che abbiate capito ciò che volevo dire E comunque sì ripeto mi riferivo a questa gente che si sta rendendo Per cui ragazzi non abbattetevi Non arrendetevi continuate ad andare avanti Per qualsiasi consiglio chiarimento o aiuto Potete contattarmi sapete che io rispondo a tutti finché posso E aiuto tutti So che sono da tre mesi su youtube lo ripeterò sempre poco tempo E non vorrei dare dei consigli sbagliati O non vorrei essere il sapientone diciamo Che adesso lui si mette a dare lezioni di vita No ragazzi io voglio insegnarvi le cose come stanno E ripeto voglio farvi capire quello che sto capendo io Più avanti andrò più cose capirò E più cose vi dirò Per cui ragazzi continuate a seguirmi Per cui come avete capito Non farò solo video riguardanti minecraft fotogiochi Ma vorrei anche fare questi tipi di video Per aiutare più persone possibili Sto cercando di Sto scusate la tosse Sto cercando di escogitare qualcosa ragazzi Fare una serie di questi video Vabbè non questo uguale a questo Una serie di video ragazzi dove Potranno seguirmi anche persone che non giocano a minecraft E vorrei fare una specie di Una specie di serie ragazzi Non so ancora come farla Magari datemi qualche consiglio Dove potranno esserci Che ne so Dibattiti Opinioni Pensieri delle persone E magari Unire tutto questo Per creare una cosa Una cosa un po' più grande Si Mi sono spiegato male ragazzi Lo so Sono un coglione Però Spero abbiate capito il concetto Datevi una mano Ve ne sarei grato Perché voglio veramente fare una cosa seria E Una cosa seria E che serva a tutti A parte farvi divertire Quello lo farò sempre Perché faccio ridere anche quando sono incazzato Mi ha detto Bah Dovrei riguardarmi i video incazzatura Soprattutto quando litigo con le finestre Che si aprono a vanvera Bene ragazzi Direi che ho detto Tutto quello che volevo dire Anzi no Ve ne vorrei dire tantissime altre Ma starei qua Non so quante ore Perché a me piace parlare con voi Con fronte ai primi video che ho fatto Dove mi vergognavo E dove non sapevo cosa dire Ora ragazzi sono cambiato Grazie a youtube Grazie a voi Sono veramente cambiato Mi è passata la timidezza E starei ore e ore e ore A parlare con voi Veramente E Per cui Rispondetemi nei commenti Continuate a seguirmi Iscrivetevi E Continuate a Fare tutto ciò che facevate prima Da Luke è tutto E ragazzi Ricordatevi Non abbattetevi Ciao a tutti Grazie a tutti